Musica Sono affezionato all'Abruzzo perché qui gli abitanti mi vogliono bene, le persone abruzzesi. Non nascondo che a Roma siamo pieni di amici romani, ma che in realtà sono di origine abruzzese. Per me è sempre un piacere, è un'occasione in più per suonare, per giocare con la musica. Un concerto bellissimo perché le canzoni di Sergio sono canzoni profonde che entrano dentro e ovunque abbiamo suonato questo repertorio abbiamo avuto un successo enorme, sia in termini quantitativi, cioè del pubblico che è affezionato alla musica di Sergio, sia in termini qualitativi, nel senso che come dicevo prima sono canzoni che scaldano il cuore a un pubblico molto vasto, cioè a un pubblico interessato alle canzoni di qualità. Devo dire che per una casualità tocca a noi inaugurare questa sera, ma toccherà a noi anche inaugurare il 2 settembre con Morgan il Festival d'Annunziano, la quinta edizione del Festival d'Annunziano, di cui siamo ormai affezionati ospiti, cosa che mi fa davvero molto piacere, Festival nel quale io ho creduto molto, credo molto, una bellissima iniziativa e siamo contenti che il Festival ci rinnovi la fiducia.